Aspetto. I peli di copertura e di guardia sono lunghi, ruvidi al tatto, lisci. Il sottopelo è morbido, corto e fitto. La testa è ricoperta di pelo corto. La criniera sul collo e la peluria sulle zampe anteriori, piumaggio, dovrebbero essere rigogliose, ben sviluppate. I posteriori hanno pantaloni soffici fino ai garretti lungo i bordi posteriori delle cosce. Il pelo deve essere liscio dal garretto in giù. I cani a pelo corto sono respinti. Colore. Tricolore, cioè nero con macchie rosse e bianche, blu, pezzato di marmo, nero focato. I segni bianchi possono essere sulla fronte sotto forma di fiammata, quindi sul colletto, sul petto, sulle piume, sulle gambe, sulle gambe e all'estremità della coda. Si possono trovare segni rossi sulle arcate sopraccigliari, sulle guance, sugli arti, sui metatarsi e sulla parte inferiore della coda. Il naso è sempre nero per qualsiasi colore di cane. Altezza algarrese. L'altezza desiderata per un cane adulto di età superiore ai 10 mesi è di 35,5 centimetri. Tratti distintivi del carattere. Le qualità della razza, sono caratteristiche dei cani da pastore. Capacità di apprendimento, mobilità, azioni protettive, mancanza di aggressività nei confronti degli animali domestici. La capacità istintiva, innata, di lavorare con un gregge di pecore, o un gregge di altri animali domestici. Comprende il suo proprietario, ama non solo il suo proprietario, ma anche i membri della famiglia, diffidente nei confronti delle altre persone, mai nervoso, apprende facilmente diversi comandi. Manutenzione e cura. Cane da pastore scozzese Shetland prospererà con cibo per cani di qualità. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Rivolgiti al tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla salute del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. Cane da pastore scozzese Shetland ha un abbondante doppio pelo che perde sensibilmente. Il mantello esterno è costituito da peli lunghi, lisci e ruvidi e il sottopelo è corto, soffice e molto denso. I proprietari dovrebbero essere preparati a spazzolare il pelo settimanalmente e più frequentemente durante la stagione della muta. Assicurati di controllare la presenza di boli di pelo dietro le orecchie, sotto il gomito su ciascuna gamba anteriore, e nei pantaloni sotto la coda. Non è consigliabile tagliare il cane a breve, poiché il mantello protegge non solo dal freddo, ma anche dalle scottature e dal caldo. Cane da pastore scozzese Shetland basta fare il bagno ogni tanto. Le unghie devono essere tagliate regolarmente. I cane da pastore scozzese delle Shetland sono attivi e atletici, e, sebbene richiedano una moderata quantità di esercizio, si adattano bene anche allo stile di vita della loro famiglia. Fanno bene come cani di città se i loro proprietari forniscono loro un'attività fisica sufficiente. A loro piace uscire con la loro gente, che esercita la mente e il corpo. I cane da pastore scozzese Shetland sono amati, essi sono distinti in molte competizioni canine tra cui obbedienza, agilità, discipline di pastorizia e monitoraggio, e sono buoni come cani da terapia. Come per tutte le razze, si consigliano lezioni di socializzazione precoce e addestramento dei cuccioli. Altamente intelligente, addestrabile e desideroso di compiacere, cane da pastore scozzese delle Shetland raggiungerà il suo pieno potenziale come compagno se gli verranno insegnate almeno le basi dell'obbedienza. Cane da pastore scozzese Shetland può essere piuttosto rumoroso ed esprimere la felicità abbaiando, quindi i proprietari dovrebbero essere preparati a insegnare al cane a smettere di abbaiare a comando. Come altre razze da pastore, i cane da pastore scozzese delle Shetland amano inseguire oggetti in movimento, comprese le auto, quindi dovrebbero avere un cortile ben recintato e camminare al guinzaglio. Il cane da pastore scozzese Shetland, o Shetland Shepdog, è una razza di cani da pastore originaria delle isole Shetland a largo della costa scozzese. Questi cani sono noti per le loro eccezionali prestazioni, intelligenza e affetto per il loro proprietario e i membri della famiglia. Buoni guardiani e guardie. Non sopportano la solitudine, hanno bisogno di comunicare con le persone. Se tenuti in casa, i cane da pastore scozzese delle Shetland hanno un solo inconveniente. Abbaiano costantemente. Punti salienti e fatti interessanti. Come suggerisce il nome, cane da pastore scozzese delle Shetland, possono e sono stati usati come cani da pastore. I cani da pastore, spostano il bestiame da un luogo all'altro. L'istinto del grege, è principalmente un istinto innato e nessuna quantità di allenamento, può sostituire questo tratto. Cane da pastore scozzese Shetland può anche essere un ottimo cane da terapia per chi ha bisogno di conforto durante momenti difficili come disastri naturali o malattie gravi. Questa razza è raramente aggressiva e generalmente va d'accordo con i bambini. Nel suo gruppo di taglia, la razza domina nell'agilità canina, nell'obbedienza, nell'intrattenimento, nel fliball, nel trekking e nel pascolo. Lo Shetland Shetland Shepdog è stato riconosciuto dall'AKC nel 1911, ed è la sua sessantasettesima razza. Lo Shetland Shepdog è stato designato come Shepherds Group. Il primo cane da pastore scozzese delle Shetland registrato dall'AKC fu Lord Scott, importato dalle isole Shetland da John Sherman Jr. di New York. L'American Shetland Shepdog Association, il club genitore della razza, fu organizzato presso il Westminster Kennel Club nel 1929, e tenne la sua prima esposizione di specialità nel 1933. Il cane da pastore scozzese Shetland è stato ufficialmente riconosciuto dall'English Kennel Club nel 1909, ma non ha ricevuto una classificazione separata dal Collie fino al 1914. 14. Storia della razza. La patria di cane da pastore scozzese Shetland sono le isole Shetland. Si ritiene che la razza sia antica quanto le isole stesse, ma è difficile trovare prove documentali di ciò. Il nome originale della razza è Tunidogo. Un tempo era possibile l'uso del cane da pastore scozzese delle Shetland, un cane di piccola taglia, poiché non erano tenuti a custodire le mandrie, ma solo a gestirle. In condizioni in cui le mandrie erano poche e le pecore piccole, i cane da pastore scozzese Shetland facevano bene il loro lavoro. Tuttavia, alla fine del XIX secolo, si verificò l'ampliamento degli allevamenti di pecore, le mandrie aumentarono di conseguenza e i piccoli cani da pastore non potevano più far fronte alla mole di lavoro. I pastori iniziarono a usare pastori più grandi, cosa che colpì immediatamente il cane da pastore scozzese delle Shetland, la razza era sull'orlo dell'estinzione. La situazione è stata cambiata dai dilettanti che percepivano cane da pastore scozzese Shetland esclusivamente come animali da compagnia. Nel 1909 fu fondato in Scozia lo Scotland Club, e la razza iniziò gradualmente a ottenere il riconoscimento internazionale. Nel 1914 fu creato lo Shetland Club inglese cane da pastore scozzese, il primo standard indicava che il cane da pastore scozzese delle Shetland dovesse avere le sembianze di un collie in miniatura. Allo stesso tempo, la razza ha preso il suo nome ufficiale. Nel 1948, l'English Kennel Club apportò le ultime modifiche significative allo standard, che fu poi adottato da tutti gli allevatori inglesi. Secondo una versione, nonostante le forti somiglianze esterne con il Rowe Collie, i cane da pastore scozzese delle Shetland sarebbero stati originariamente allevati non da loro, ma dal border collie, attraverso l'incrocio con altri cani da pastore. Esiste un'altra versione, cane da pastore scozzese delle Shetland nel IX-XIV secolo, una razza aborigena, imparentata e simile nell'aspetto allo spitz scandinavo. La prima forma del cane da pastore scozzese delle Shetland, era il risultato dell'incrocio di razze autotone spitz con razze da pastore scozzesi appena arrivate. Solo all'inizio del XX secolo, la razza iniziò a mescolarsi con il Rowe Collie. Salute. I cani, che vengono spesso scelti per ulteriori allevamenti, costano da 500 dollari USA. In generale, questi sono cuccioli eccellenti, ma alcune piccole sfumature impediranno loro di ottenere voti alti alle mostre. I cuccioli di classe P, la prole che può fungere solo da animale domestico, costano molto meno, da 200 dollari. Linea di fondo. Cane da pastore scozzese Shetland, chiamato anche Shetland Shetdog, è essenzialmente un collie nano, raggiungendo circa la metà dell'altezza normale di un collie. La sua sorprendente somiglianza con il collie non lascia dubbi sul fatto, che stiamo parlando di due razze molto strettamente imparentate. La patria di cane da pastore scozzese Shetland sono le isole Shetland, il cui clima rigido contribuisce alla comparsa di forme nane e altri animali. Ci sono famosi poni Shetland, eccetera. Quindi questo piccolo cane da pastore, è solo un'aggiunta naturale a questi animali modesti, aspri e poveri, non viziati e tuttavia molto resistenti e utili. E anche il carattere del cane da pastore scozzese delle Shetland, è simile a un collie, essendo altrettanto bello, ma più decorativo di un cane da pastore.